ragazza che precipita di dino buzzati a 19 anni marta si affacciò dalla sommità del grattacielo e vedendo di sotto la città risplendere nella sera fu presa dalle vertigini il grattacielo era d'argento supremo e felice in quella sera bellissima e pura mentre il vento stirava sottili filamenti di nubi quella sullo sfondo di un azzurro assolutamente incredibile era infatti l'ora che le città vengono prese dall'ispirazione e chi non è cieco ne resta travolto dall'aereo culmine la ragazza vedeva le strade e le masse dei palazzi contorcersi nel lungo spasimo del tramonto e là dove il bianco delle case finiva cominciava il blu del mare che visto dall'alto sembrava in salita e siccome dall'oriente avanzavano i velari della notte la città divenne un dolce abisso brulicante di luci che palpitava c'erano dentro gli uomini potenti e le donne ancora di più le pellicce e i violini le macchine smaltate donice le insegne fosforescenti dei tabaren gli androni delle spente regge le fontane e i diamanti gli antichi giardini taciturni le feste i desideri gli amori e soprattutto quello struggente incantesimo della sera per cui si fantastica di grandezza e di gloria queste cose vedendo marta si sporse perdutamente oltre la balaustra e si lasciò andare le parve di librarsi nell'aria ma precipitava data la straordinaria altezza del grattacielo le strade le piazze laggiù in fondo erano estremamente lontane chissà quanto tempo per arrivarci ma la ragazza precipitava le terrazze i balconi degli ultimi piani erano popolati in quell'ora da gente elegante ricca che prendeva cocktail e faceva sciocche conversazioni ne venivano fiotti sparsi e confusi di musiche marta vi passò dinanzi e parecchi si affacciarono a guardarla voli di quel genere nella maggioranza appunto ragazze non erano rari nel grattacielo e costituivano per gli inquilini un diversivo interessante anche perciò il prezzo di quegli appartamenti era altissimo il sole non ancora del tutto disceso fece del suo meglio per illuminare il vestitino di marta era un modesto abito primaverile comprato fatto per pochi soldi ma la luce lirica del tramonto lo esaltava alquanto rendendolo chic dai balconi dei miliardari mani galanti si tendevano verso di lei offrendo fiori e bicchieri signorina un piccolo drink gentile farfalla perché non si ferma un minuto tra noi lei rideva svolazzando felice ma intanto precipitava no grazie amici non posso ho fretta ad arrivare di arrivare dove le chiedevano ah non fatemi parlare rispondeva marta e agitava le mani in atto di confidenziale saluto un giovanotto alto bruno assai distinto allungò le braccia per ghermirla le piaceva eppure marta si schermì velocemente come si permette signore e fece in tempo a dargli con un dito un colpetto sul naso la gente di lusso si occupava dunque di lei e ciò la riempiva di soddisfazione si sentiva affascinante di moda sulle fiorite terrazze tra l'andirivieni di camerieri in bianco e le folate di canzoni esotiche si parlò per qualche minuto o forse meno di quella giovane che stava passando dall'alto in basso con rotta verticale alcuni la giudicavano bella altri così così tutti la trovarono interessante lei ha tutta la vita davanti le dicevano perché si affretta così ne ha di tempo disponibile per correre e affannarsi si fermi un momento con noi non è che una modesta festicciola tra amici intendiamoci eppure si troverà bene lei faceva atto di rispondere ma già l'accelerazione di gravità l'aveva portata al piano di sotto a due tre quattro piani di sotto come si precipita infatti allegramente quando si hanno appena 19 anni certo la distanza che la separava dal fondo cioè dal livello delle strade era immensa meno di poco fa certamente tuttavia sempre considerevole nel frattempo però il sole si era attuffato nel mare lo si era visto scomparire trasformato in un tremolante fungo rossastro non c'erano quindi più i suoi raggi vivificanti a illuminare l'abito della ragazza e a farne una seducente cometa meno male che i finestrini e le terrazze del grattacielo erano quasi tutti illuminati e gli intensi riverberi la investivano in pieno via via che passava dinanzi ora nell'interno degli appartamenti marta non vedeva più soltanto compagnie di gente spensierata di quando in quando c'erano pure degli uffici dove le impiegate in grembiali neri o azzurri sedevano ai tavolini in lunghe file parecchie erano giovani come e più di lei e ormai stanche della giornata alzavano ogni tanto gli occhi dalle pratiche e dalle macchine per scrivere anch'esse così la videro e alcune corsero alle finestre dove vai perché tanta fretta chi sei le gridavano nelle voci si indovinava qualcosa di simile all'invidia mi aspettano laggiù rispondeva lei non posso fermarmi perdonatemi e ancora rideva fluttuando sul precipizio ma non erano più le risate di prima la notte era subdollamente discesa e marta cominciava a sentir freddo in quel mentre guardando in basso vide all'ingresso di un palazzo un vivo alone di luci qui lunghe automobili nere si fermavano per la distanza grandi come formiche e ne scendevano uomini e donne ansiosi di entrare le parve di distinguere in quel formicolio lo scintillare dei gioielli sopra l'entrata sventolavano bandiere davano una grande festa evidentemente proprio quella che lei marta sognava da quando era bambina guai se fosse mancata laggiù l'aspettava all'occasione la fatalità il romanzo la vera inaugurazione della vita sarebbe arrivata in tempo con dispetto si accorse che una trentina di metri più in là un'altra ragazza stava precipitando era decisamente più bella di lei e indossava un vestito da mezza sera abbastanza di classe chissà come veniva giù a velocità molto superiore alla sua tanto che in pochi istanti la sopravanzò e sparì in basso sebbene marta la chiamasse senza dubbio sarebbe giunta la festa prima di lei poteva darsi che fosse tutto un piano calcolato per soppiantarla poi si rese conto che a precipitare non erano loro due sole lungo i fianchi del grattacielo varie altre donne giovanissime stavano piombando in basso i volti tesi nell'eccitazione del volo le mani festosamente agitate come per dire eccoci siamo qui è la nostra ora fateci festa il mondo non è forse nostro era una gara dunque e lei aveva soltanto un misero abitino mentre quelle altre sfoggiavano modelli di gran taglio e qualcuna perfino si stringeva sulle spalle nude ampie stole di visone così sicura di sé quando aveva spiccato il volo adesso marta sentiva un tremito crescerle dentro forse era semplicemente il freddo ma forse era anche paura la paura di aver fatto uno sbaglio senza rimedio sembrava notte profondo ormai le finestre si spegnevano una dopo l'altra gli echi di musica divennero più rari gli uffici erano vuoti nessun giovanotto si sporgeva più dai davanzali tendendo le mani che ora era all'ingresso del palazzo laggiù che nel frattempo si era fatto più grande e se ne potevano distinguere ormai tutti i particolari architettonici permaneva intatta la luminaria ma l'andirivieni delle automobili era cessato di quando in quando anzi piccoli gruppetti uscivano dal portone allontanandosi con passo stanco poi anche le lampade dell'ingresso si spensero marta sentì stringersi il cuore ahimè alla festa non sarebbe più giunta in tempo gettando un'occhiata all'insù vide il pinnacolo del grattacielo in tutta la sua potenza crudele era quasi tutto buio rare sparse finestre ancora accese agli ultimi piani e sopra la cima si spandeva lentamente il primo barlume dell'alba in un tinello del ventottesimo piano un uomo sui quarant'anni stava prendendo il caffè del mattino e intanto leggeva il giornale mentre la moglie rigovernava la stanza un orologio sulla credenza segnava le nove meno un quarto un'ombra passò repentina dinanzi alla finestra alberto gridò la moglie hai visto è passata una donna com'era fece lui senza alzare gli occhi dal giornale una vecchia rispose la moglie una vecchia decrepita sembrava spaventata sempre così l'uomo brontolò a questi piani bassi non passano che vecchie cadenti belle ragazze si vedono dal cinquecentesimo piano in su mica per niente quegli appartamenti costano così cari c'è il vantaggio osservò la moglie che qua giù almeno si può sentire il tonfo quando toccano terra stavolta neanche quello disse lui scuotendo il capo dopo essere rimasto alcuni istanti in ascolto e beve un altro sorso di caffè